I soldi non si fanno, i soldi si raccolgono. Non è che io mi metto a casa a fare i soldi, a stamparli, i soldi, io. Non ho i soldi, li raccolgo da gente che già li ha. Come faccio a fare in modo che la gente voglia darmi i suoi soldi? Devo dargli un qualcosa, devo risolvergli un problema, devo dargli un servizio, devo aiutarli in qualche modo, la gente deve dire grazie, sono disposto a darti i miei soldi. Quanto ho io che interessa la gente? Domanda successiva. Se io prendo la maggior parte di voi, non ha niente di utile. Non ha niente di utile, mi seguite. Cioè, dai risolvermi un mio problema. Autostima? Perché? Perché ha un sacco di problemi. Lei, come ce l'avevo io, ci sta. Quindi devo iniziare a risolvere quali problemi? Miei. Quali problemi ho? Scrivetelo. Quali problemi ho? Autostima, questo, 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 questo. Ok, ok, ok. Partiamo da lì, a risolvere i nostri cazzo di problemi. Voglio fare più soldi, voglio vivere in una casa più grande, 50 metri quadrati in più. Non voglio vivere in periferia, voglio vivere in centro a Cagliani. A quel punto io inizio a risolvere i miei problemi. Risolvendo i miei problemi, devo iniziare a pensare in una maniera diversa. Perché? Perché se il modo in cui io penso oggi mi ha creato i problemi, non può essere lo stesso modo che me li risolve. Perché altrimenti li avrebbe già risolti, se è il mio modo di pensare attuale. Quindi devo pensare in un altro modo. Come faccio a pensare in un altro modo? Avendo informazioni diverse. Quindi leggo, ascolto, vedo, tocco, sto, frequento persone diverse che mi danno pensieri diversi. Perché se voi venisse da me oggi con i vostri problemi, ve li risolvo tutti e tutti. No, magari, no? Però li risolvo. Non è... L'essere umano invece pensa sempre. I miei problemi non me li può risolvere nessuno, povero me. Se solo la gente sapesse quello che provo io. Ma io che ho parlato con decine di migliaia di persone in giro per il mondo in questi anni, vi posso dire, nessuno di voi, nel 99,9% dei casi, ha un problema che non può superare. E ve lo dico perché c'è stata due o tre settimane fa, è mancata una mia carissima amica, 36 anni, 36 anni, una donna che fa network, ok? Era una delle top al mondo, guadagnava cifre esorbitanti da quest'industria. Una donna straordinaria, straordinaria, che l'ho conosciuta tre anni fa, siamo diventati amici, subito, energie subito che si incastrano. Viaggiava al mondo, le hanno trovato un cancro al quarto stadio, al colon, un anno fa, è mancata tre settimane fa. Quella persona fino all'ultimo cazzo di giorno ha condiviso valore, risoluzioni, e gli altri sorrideva, dava energia, faceva le call, dava i meeting, il tour, fino all'ultimo cazzo di giorno. Poi parli con le persone che non c'hanno niente, che sono in salute, che? E gli dici, perché sei triste? Stellina. Cos'è che hai? Dimmi un po'. Ok? Cos'hai? Ah, non funziona il wifi bene? Ah, non ti pagano abbastanza? Cos'hai fatto ieri sera? Ah, un cazzo. Pieno a due di notte. L'altro ieri sera? Un cazzo. Ah, il principio parte dai pensieri, no? Dal fatto di credere. Credere è la caratteristica numero uno che porta la gente a fare successo. Il credere. Sto parli con qualunque imprenditore qua in Sardegna? Qualunque. In qualche modo, chi dice, io ci credo, nel senso, so che quello che sto facendo porterà i suoi frutti. Ok? E la filosofia base dell'imprenditoria è, metto davanti i capitali e so che mi torneranno. Questo è quello che fa l'imprenditore, la maggior parte. Cioè, prendo, vado in banca, prendo un mutuo, una linea di credito, apro un'attività, investo, quello che devo fare, e so che il mio investimento porterà dei frutti. Quindi ho visto qualcosa che gli altri non hanno. Ho visto un'opportunità di investimento in una villa, quello che sia, in Costa Smeralda, che gli altri non hanno visto. Posso trovare il capitale, e spesso non ci hanno il capitale, ma trovano il capitale, tramite una banca per esempio, o familiare, quello che sia, e con il capitale prestato da altri, investono in qualcosa perché già vedono la soluzione finale. Quindi hanno la capacità di quella che si chiama visione. Cioè, vedere quello che ad oggi non c'è ancora, ma che per loro già c'è. Come per me, sette anni fa, mi vedevo già che ce l'avrei in qualche modo fatta, non sapevo come, minimamente, e quella cosa mi ha detto, vai. Quindi il primo è il credo. Dopo che tu hai questo credo che tu cambierai la tua cazza di vita, e sta solo a te, non a me, deciderlo, a quel punto, solo a quel punto, tu ti metti a lavorare. Come? Tanto. Devi avere un veicolo che ti permette di farlo, qua ce l'hai, dopo che hai il veicolo, il mezzo, devi solo lavorarlo, e diventare fenomenale a riguardo. Non c'è una persona, ragazzi, che guadagna tanti soldi, che non diventa fenomenale in quello che fa. Non ce n'è una. Tu prendi però la maggior parte delle persone e gli chiedi, in cosa sei fenomenale? Ve lo chiedo a voi. In cosa siete fenomenali? Qualcuno mi dice, ah, io sono fenomenale a fare la pizza. Qualcun altro mi dice, io sono fenomenale a rollare le sigarette. Ne posso rollare una ogni 20 secondi. Ma voi scherzate, ma la gente probabilmente quando esce la sera dice, io mi apro le bottiglie di birra con la di coi denti. Quanto viene pagata come professione? Zero. Anzi, una volta ogni sei anni devi andarti a rifare una parte dei denti. In cosa siete fenomenali voi? E allora perché vogliamo però guadagnare 5.000 euro al mese? Non sappiamo fare un cazzo. Cosa sai fare bene tu? E uno mi dice, niente. O comunque, poco, comunque, capite? E questa roba, è quello che sono i... Cioè, guadagnare soldi, non è guadagnare soldi. Guadagnare soldi è dare valore. Ok? Quindi la domanda che noi dobbiamo farci è quanto noi valiamo? Cioè, se io domani vado in un'azienda, quanto mi pagano? 1.200 se non ho niente di... Poi in realtà non è vero perché, a prescindere che sono bravissimo, mi pagano comunque 1.200. Però tendenzialmente, se io valgo tanto, cioè, ho due lauree, due master, parlo tre lingue, sono una persona sveglia, tendenzialmente vengo pagato di più. Perché? Perché so più cose, ragazzi. La cosa bella è che se voi siete così competenti e vedete il mondo dell'online, altro che 1.200 o 1.500, non c'è un tetto di guadagno qua. Quindi le persone che vogliono, che sanno di valere, quando iniziano nell'online, volano. Perché non hanno limiti qua. Non hanno i paletti che ti dicono massimo 1.500. Poi l'aumento me lo chiedi dopo due anni. Qua l'aumento te lo fai tu da solo. Ti svegli la mattina e dici voglio guadagnare di più. Che devo fare? Ti metti lì, fai il plan e vai a prenderlo. Più bello di così, per me non c'è niente. Perché non sono una persona pigra. Perché non sono una persona pigra più. Perché? Perché ho capito che qua c'era quello che io volevo. Non io dovevo. Lo volevo. Io mi sono chiesto sette anni fa che vita voglio? Quella lì, ok. Come posso arrivarci? Cameriere? Non ci arrivo. Mi lauro in economia, vado a fare l'apprendistato? Non ci arrivo. Lì non ci arrivo. Mi è capitato il mondo dell'online davanti. Ho detto qua, fammi guardare. Ah, ci arrivo qua. Bene, mi piace. Mi sono messo e ho pedalato. Quindi per risponderti, lavorando. Sono arrivato qua lavorando. Azione? Lavorato tanto.